lunedì 8 agosto 2022 buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di fano tv occhio e giornali il commento alla stampa del giorno che inizia a puntuale alle 7 del mattino in diretta e poi si replica durante la giornata sia in televisione che on demand sui nostri siti sul nostro portale occhio a notizia.it così come su youtube facebook eccetera allora buongiorno quindi a tutti quanti allora partiamo come sempre dal santo del giorno lo vediamo con l'aiuto della grafica oggi San Domenico di Guzman il sole sorto alle 6.03 tramonterà alle 20.25 e adesso diamo un sguardo al tempo intanto lo facciamo con questa immagine bella che arriva da Porto San Giorgio nel sud della nostra splendida regione Marche il tempo lo possiamo vedere anche da questa immagine che riprende un tratto di spiaggia che piano piano si avvia ad animarsi con queste persone che di primo mattino chi passeggia chi fa le corse chi invece lavora perché sta vedete pulendo e sistemando raccogliendo i rifiuti della giornata di ieri insomma questa è la situazione a Porto San Giorgio ma andiamo a vedere il tempo non ci sono grandi novità se non questa pioggia che a me continua a evitare la provincia di Peso Urbino io non so se c'è una maledizione perché comunque annunciata più volte la provincia di Peso è rimasta bocca asciutta mi riferisco anche alla costa e alla collina che ha bisogno di acqua parlo della terra che ha bisogno di acqua comunque questa è la fotografia per quanto riguarda la giornata di oggi del sito della protezione civile delle Marche che indica rovescio temporale pomeridiani sparsi lungo la fascia costiera durante la notte questi fenomeni potranno riprendere vigore per la giornata di domani ancora pioggia un po' sparsa qua e là bisogna vedere come poi il tempo disporrà il cielo si disporrà rovescio temporale sparsi anche durante la mattinata in esaurimento nelle ore centrali insomma poi sarà tutta una settimana stabile da mercoledì in avanti ma ecco questo un po' volevo anche farvi vedere per esempio l'altro sito il Trebimeteo questa è la giornata di oggi anzi la notte appena trascorsa la mattinata vedete qualche più una goccia proprio come una goccia semplicemente nella collina pesarese e anconetana poi nel pomeriggio invece lungo il crinale Appennini con un po' più di pioggia qualcosa nella provincia di Fermo lungo la costa insomma poi ecco il resto sarà solo in montagna ma per la giornata di domani vediamo velocemente anche questa perché se sa mai magari qualche ecco domani qualche temporale previsto sulla provincia di Pesurbino ma chi ci crede più ormai sono stati annunciati tante volte ripeto e poi smentiti dai fatti ma comunque chi vivrà vedrà intanto andiamo a leggere i giornali carta canta nero su bianco la pagina del resto del Carlino delle Marche eccola qua allora siamo sulla cronaca di Pesaro paura in mare questo è il titolo qua cerchiato di con l'evidenziatore giallo paura in mare salvate 11 persone una barca che rischia di affondare davanti a Fiorenzuola di Focara c'erano anche dei bambini intervento della capitaneria di Porto poi un incidente a Piobbico motociclista di 25 anni si schianta contro un furgone è grave e poi lo spettacolo del Rossini Opera Festival l'ora del Rossini domani c'è la prima e c'è ovviamente anche l'attesa nella pagina invece sempre in prima pagina ma per quanto riguarda Ascoli è fermo si parla della Quintana la Quintana di agosto vince Porta Solestà con i soliti innocenzi il corteo ha mosso i primi passi sotto un temporale improvviso vedete ad Ascoli ieri è piovuto alle tre precise poi l'attesissima sfida quindicesimo trionfo per il Cavaliere da Ancona invece andiamo ad evidenziare le notizie d'Ancona sempre dalla prima pagina del resto del Carlino allora vaiolo delle scimmie in no living prima in Italia a fare test di agnosi e poi da Senigallia invece baby vandali scatenati filmati dalle telecamere e degrado e paura ragazzo di 22 anni inseguito e pestato con martello e bottiglia l'Italio invece più basso l'ultima provincia che è quella di Macerata con una tragedia che si è consumata in riva al mare a Civitanova Mar che fa il bagno un anconetano muore negato shock in spiaggia Porto Recanati invece entra in un pub e ruba la cassa è stato inseguito dai clienti e poi l'inchiesta del Carlino sui donatori di sangue è allarme rosso nella provincia di Macerata perché il numero di chi va a donare il sangue è in continuo calo poi da San Benedetto invece ragazza soccorsa all'alba è giallo perché c'è l'incubo della violenza e l'ido di fermo ciao giovanotti tutti al lavoro per risistemare la spiaggia quindi il giornale evita le polemiche quelle che invece circolano sempre di più con insistenza sulla rete dove criticano soprattutto le associazioni ambientaliste questo concerto di giovanotti che laddove va insomma pare come atti la lasci insomma il segno allora andiamo adesso invece a leggere il Corriere Adriatico l'edizione di Pesaro il casco di Vale è una meta sapete il casco che il comune ha posizionato in un quartiere della città e che è diventato un po' meta di turisti che vanno lì per farsi una fotografia un selfie attività commerciali e alberghiere di piazzale d'annunzio già promuovono la max installazione difficile valutare quanti ma l'attrazione porta nuovi clienti e concentra l'attenzione sulla zona poi a centropagine invece il Corriere Adriatico l'edizione di Pesaro dedica la fotonotizia alla festa del mare che ieri si è conclusa con i fuochi d'artificio ma anche per il congedo di Trasati Trasati è il vescovo della diocese di Fano Fossombrone Caglipergola che ha annunciato il suo pensionamento e dunque per lui questa era l'ultima festa del mare di spalle invece qua la politica con i dem regionali che attaccano Calenda è la scelta di andarsene lui fa solo populismo uno strappo consumato ad appena 5 giorni dalla stipula del patto in chiave elettorale Carlo Calenda con la sua azione ha dato ieri il ben servito al PD di Enrico Letta optando per una corsa in solitaria verso le politiche del 25 settembre una mossa che ammette ancora più a rischio i collegi uninominali delle Marche ed i dem nostrani insorgono e tutti a dire che è un irresponsabile perché fa populismo d'elite poi le altre notizie in breve da Pesero, Muraglia, ex lavatoio più che in degrado la fonte cade a pezzi terre roveresche edifici venduti a un euro per attirare nuovi residenti e poi dalle Marche vaiolo delle scimmie ecco il test rapido per stanare i casi moto invece contro un furgone grave centauro di Piobbico trasportato sull'eliambulanza all'ospedale di Torrette la sua moto, la sua Suzuki disintegrata illesi quattro passeggeri invece della Opel Urbino offre ai turisti visite guidate in centro allora partiamo da questo frontale guardate in che condizioni era la motocicletta di questo centauro dopo lo scontro con una Opel un frontale in moto contro un furgone grave centauro ricoverato Torrette illesi quattro occupanti della Opel scrive il Corriere Adriatico distrutta invece la Suzuki ad Apecchio interviene l'eliambulanza lo schianto sulla provinciale nei pressi di Colombara all'inizio della curva paura in mare invece per lo scafo che imbarca acqua SOS di 11 diportisti tra loro anche bambini interviene la capitineria li porta tutti in salvo fino alla banchina del porto di Pesaro ancora dai quotidiani questo invece è il resto del Carlino pagina 4 delle Marche schianto tra moto e furgone ganavano 25enne tre mezzi coinvolti nell'incidente successo lungo la Pecchiese il giovane centauro ha riportato diverse fratture ma non sarebbe in pericolo di vita invece un allarme rientrato a Cantiano sempre nel Pesarese dove un giovane di Ancona era scomparso è stato ritrovato grazie a degli amici sotto invece si parla della notata longa longa di Fano dove a vincere il trofeo è stato un riminese il mare in burrasca non ha fermato gli oltre 200 partecipanti alla 49esima edizione mentre un bagno fatale a Civitanova Marche per un anziano shock in spiaggia la vittima è il 79enne Anconetano Giovanni Longhi l'intervento dei soccorritori è stato complicato dal mare grosso tant'è che è finito vicino agli scogli difficile recuperare quel corpo un bagnino si è ferito lievemente sempre dalla cronaca di Civitanova pestato in strada lo salvano due giovani turiste un'aggressione nella notte vicino ai giardini di via Cavour un 35enne immobilizzato a terra preso a pugni e a calci ancora pagina dai giornali questa volta torniamo a Fano il Corriere Adriatico l'appello del Vescovo al Comune detassate anche il settore Pesca Monsignor Trasarti alla festa del mare per l'ultima volta parole spese per il lavoro e per il commercio l'ultima volta perché come abbiamo detto il prossimo anno andrà in pensione scrive Massimo Foghetti e si ritirerà nella sua città natale fermo e poi l'amministrazione comunale che ha premiato i lupi di mare della classe del 1940 vogliamo ricordarli questi lupi di mare vogliamo citare almeno anche i loro nomi il giornale li scrive noi li annunciamo allora come ricordo anche 1940 sono stati premiati hanno ritirato il premio Gianfranco Balestrini Enzo Fabbroni Giuliano Fulvi Giovanni Pellegrini Graziano Polli e Giorgio Santoni e dunque queste persone questi lupi di mare che tante cose avrebbero da raccontare per il lavoro svolto lavoro duro durissimo svolto appunto in acqua in mare spettacolo della notata longa conclusa con un testa a testa Filippo Cocco si afferma su Alessio Spelonchi tra le donne invece vince Elisa Mariotti ancora dalla rassegna andiamo a Pesero dove c'è grande attesa per il Rossini Opera Festival entra in scena domani la prima e con Florence brillano due nuove stelle le due nuove stelle le vedete in questa fotografia successo per il tenore ma anche per Cattiva e Fucsa la generale delle Comtori Villa Tittarelli da là ai parti mondani le Comtori e queste sono le fotografie che il giornale pubblica con appunto le due cantanti Julie Fuchs che interpreta Comtesse Adele e Maria Cativa che invece isolier e sotto poi altre immagini forse il volto più noto sarà per molti di voi quello di Roberto Burioni che appunto insieme a Liliana Segre e Lella Mazzoli e Miranda Paolucci è lì appunto in questo che penso sia una sorta di ricevimento bene questa è la pagina di Pesaro ce ne sono due se non ricordo male questa mattina ma restando sempre nel capoluogo di provincia il Corriere Adriatico invece tratta il problema dell'ex lavatoio di Muraglia che cade a pezzi e l'entrata all'antica fonte è murata residenti segnalano il totale degrado eppure c'era un progetto organico di recupero delle strutture a Senigallia ragazzini ubriachi invece assediano una casa gridano minacce e arrampicati al cancello sciocchi in via Ugo Bassi sul lungomare un giovane si sente male presi e multati due parcheggiatori abusivi è una notte brava di quelle che insomma puntualmente si verificano settimanalmente se non tutte le sere d'estate a Senigallia ma loro invece nel sonno a 64 anni la trovano marito e figlia Umbretta Galli era la moglie dell'editore Renzo Todari ha lavorato all'hotel Sirena i funerali ancora non sono la data dei funerali non è stata divulgata tanti i messaggi di cordoglio andiamo a vedere l'altra pagina siamo sempre sul Carlino baby vandal in azione paura per in strada siamo sempre a Senigallia a Senigallia un gruppetto di ragazzini ubriachi filmati dalle telecamere bloccati parcheggiatori abusivi mentre al Giamborì in 12.000 controlli della polizia quella di sabato è stata la serata più partecipata poi a Sirolo invece sulla spiaggia di Sirolo raffica di malori in spiaggia tre turisti finiscono in ospedale mentre mentre sulla pagina di Falconara vandali errisse nelle piazze del centro e a Castelferretti il degrado è padrone Federici di Taglia Viva dice di scarica cielo aperto in via Tommasi uno slalom tra i rischi per il cimitero poi in lacrime invece per Aldo storico fornaio si chiamava Aldo Bambozzi aveva 77 anni ed era molto conosciuto in città a Falconara lo ricordiamo con la famiglia e del fratello Marcello aveva gestito il forno di Falconara Alta vicino al lavatoio e il funerale si celebrerà mercoledì alle 10.30 nella chiesa parrocchiale della visitazione della Beata Vergine Maria appunto a Falconara Alta e poi c'è la storia ecco perché avevo segnalato anche qui avevo preso questa pagina scaricato questa pagina dal Corriere Adriatico perché sempre da Falconara c'è la storia di questo uomo Alessandro che dice lui dormo su una panchina e non mangio da giorni è il dramma della solitudine di questo Alessandro che dice chiedo un lavoretto e una casetta Alessandro dorme sulle panchine di piazza Mazzini e della stazione ferroviaria di Falconara ogni giorno e ogni notte per lui la vita riserva amare amarezza e solitudine vede i treni e la gente passargli vicino e nessuno che gli si ferma accanto avrebbe bisogno di un aiuto di una mano tesa che contribuisca a risolverlo a risollevarlo da una situazione di difficoltà anche il suo stato di salute è un po' compromesso insomma il prossimo 11 agosto compirà 63 anni e il futuro gli appare un po' senza speranza e lui racconta dice non mangio da giorni e ho cercato di chiedere aiuto anche in comune volevo prendere appuntamento con il sindaco ma era fuori e mi hanno fatto parlare solo con le assistenti sociali la situazione è precipitata nel giro di pochi mesi se consideriamo poi che c'è gente che non fa nulla mentre vede qualcun altro che ammazza la gente soffocandola immaginiamoci uno che chiede semplicemente le lemosi non sta lì quindi questa è un po' la situazione che stiamo vivendo di totale ipnosi pare dove tutti vabbè lasciamo stare andiamo avanti andiamo sulla pagina di siamo sulla pagina di Ascoli Piceno Castellane e Dame il fascino della Quintana la pioggia è caduta alle 15 in punto non ha fermato il corteo storico di 1200 figuranti dopo due anni torna all'incanto per cittadini e turisti ecco qua le immagini di questa storica appunto Quintana l'ultima pagina è quella di sport riguarda la pallacanestro pallacanestro pesarese la VL prende Ketam tiro da tre e so difendere la nuova ala forte dei pesaresi ha già giocato in Belgio Francia Spagna Bulgaria e Israele e con questo chiudiamo qui la nostra rassegna stampa grazie per averci seguito questa sera alle 20.30 c'è occhio alla notizia del telegiornale grazie per la vostra attenzione e buona giornata a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti